Maestro Antonio Lagamba, siamo a Mongiana nel corso della manifestazione Pinocchio in Bicicletta organizzata dallo Sporting Club Mileto di Mimmo Bulzomi. Sì, con Mimmo Bulzomi ci conosciamo ormai da anni e quindi quando mi chiama per realizzare delle targhe sono sempre disponibili soprattutto poi per una manifestazione come questa dedicata all'infanzia, ai giovani e alla bicicletta. Quindi sono felice di essere qui, di condividere con Monsignor Vescovo, con Gerardo Sacco e con soprattutto Moser che è un caro amico e che spesso viene anche a trovarmi a vivo. Grazie. Ricordiamo le tue opere realizzate a Mileto per il Giro d'Italia, di cui una è inaugurata proprio il giorno della partenza. Sì, come scultore sono sempre felice di realizzare opere che rimangono nel tempo e che diventano testimonianza di alcune manifestazioni come quella del Giro d'Italia in cui ho realizzato questo monumento dedicato a Coppi, a Bartali e anche il grande Modales che ricorda i maggiori giornalisti del Giro d'Italia.